ormai. Ok, vai, vai. 5 minuti. Bene, buongiorno a tutti, sono Marco Filippi, CEO e founder di Volvero. La nostra storia comincia qualche anno fa, quando ci siamo resi conto che il mercato della mobilità e dei trasporti sta cambiando molto. In particolare immaginiamoci di essere in una magnifica località turistica, come potrebbe essere Bisceglie. Arriviamo qui e probabilmente una delle prime cose che facciamo dopo aver lasciato il Digiton è voler esplorare il resto della costa e delle aree circostanti. Cosa vogliamo fare? Prendiamo un autonoleggio, viene naturale farlo. Ma la mia domanda per voi è, com'è stata la vostra ultima esperienza con gli autonoleggi? Qualcuno vedo che scuote la testa, qualcuno fa una smorfia, qualcuno è caduto dalla sedia. Quindi sì, probabilmente la vostra esperienza non è stata incredibile. Ci sono dei grossi problemi con il servizio di autonoleggio, è un servizio che è molto costoso, di cui termini e condizioni non sono mai chiari e anche poco user friendly. Quindi per questo motivo abbiamo creato un'app per mettere in contatto chi ha dei veicoli a disposizione con chi vuole noleggiarne uno in maniera semplice e veloce. In particolare stiamo offrendo il servizio lato proprietari di veicoli a car dealer e car rental, quindi autonoleggi e rivenditori di auto che in questo modo possono non solo digitalizzare il loro servizio ma anche attivare una nuova business line. Quindi i rivenditori di auto ad esempio possono fare un test sul noleggio dei veicoli grazie alla nostra tecnologia. Forniamo il servizio anche ad aziende corporate, questo perché ci dà la possibilità di andare a riutilizzare le flotte di veicoli che non sono utilizzate durante i momenti in cui non servono per attività produttive, ma anche la grande innovazione di Volvero è stata quella di aver introdotto i proprietari privati nel modello. Quindi grazie a dei termini e condizioni e delle polizze assicurative che abbiamo sviluppato internamente con delle partnership anche esterne, siamo riusciti a estendere il servizio anche a quei proprietari privati di veicoli che vogliono in questo modo condividerli con le community di persone attorno a loro. Qualche parola sul team, siamo tre fondatori, come vedete sembra quasi una barzelletta, c'è l'italiano, c'è il nigeriano e c'è il turco. Io ho esperienza in ambito finanziario, ho studiato entrepreneurship in Silicon Valley dove ho anche lavorato per un fondo di mobilità, quindi ovviamente mi occupo di management, gestione del personale, gestione della parte finanziaria e anche di business development. Il mio CEO, Kayode, ha esperienza di più di dieci anni in progetti complessi, ha lavorato da Amazon, da Non, quindi si occupa ovviamente poi di gestire anche la parte più operativa, mentre il nostro esperto tecnico Emre ha già avuto esperienza anche come CEO di una startup che faceva InsurTech ed è quindi stata la perfetta persona per andare a integrare il team. Abbiamo ovviamente anche un advisory board con consulenti ed esperti in ambito marketing, in ambito digital e ancora in ambito IT perché ovviamente è molto importante per quello che facciamo. Non c'è nel deck però abbiamo ovviamente dei brevetti per come utilizziamo la tecnologia, facciamo raccolta dati sui sensori dei telefoni cellulari degli utenti, quindi siamo in grado di capire quanto bene una persona sta guidando e dare dei punteggi di guida anche andando a usare delle referenze basate su Google Maps. Questo viene poi registrato in un sistema di blockchain dove vengono utilizzati tutti i dati che vengono registrati per poi andare ad implementare un sistema di gamification dove se guidi bene ti diamo dei punti che puoi spendere per utilizzi futuri o con il nostro network. Siamo attualmente supportati da diverse istituzioni, alcune soprattutto in ambito tech e startup investiti da Impact Hub Milano dal 2019, abbiamo raccolto 300.000 dallo IAT, Climate Kick e Urban Mobility e abbiamo anche partecipato alla Startup School di Y Combinator. Quindi siamo adesso alla ricerca del nostro prossimo round di finanziamento che è di 1.400.000 euro, è già committato in parte, siamo attivi principalmente in Nord Italia ma abbiamo anche dei progetti pilota attivi all'estero che andremo poi a sviluppare nel corso del prossimo anno. Quindi sono qua per il resto della giornata, signore e signori sono Marco Filippi, amministratore delegato di Volvero. Grazie. Come ho detto già ieri, è molto raro che una startup che fa la re-application a Digiton a distanza di tempo venga riammessa alla competition, è pienamente concesso dal regolamento. Io ricordo con piacere il vostro pitch durante il Covid e fu tra l'altro il primo pitch in inglese della storia di Digiton con il tuo collega. Quello che vorrei capire è dal 2021 ad oggi quali sono stati gli sviluppi del prodotto e se avete una roadmap di sviluppo del prodotto da condividere. E poi scusami, ti faccio anche questo così fai il pacchetto completo. Ero curioso di sapere in che termini l'analisi va a dire un comportamento di guida virtuoso, cioè che parametri intendete come comportamento di guida virtuoso. Ok, grazie per le domande molto complicate. Partirei dall'ultima di Ennio, allora i parametri che utilizziamo sono derivanti dai sensori dei telefoni cellulari, quindi GPS, giroscopio, accelerometro, così siamo in grado di capire la velocità a cui una macchina viene guidata, un'auto, un veicolo, una moto, un camper, abbiamo diverse tipologie di veicoli in piattaforma, quindi siamo in grado di capire la velocità, siamo in grado poi anche di analizzare dei benchmark, di parametrizzarla su dei benchmark, quindi capire se la velocità è stata troppo alta, troppo bassa, se ci sono state delle accelerazioni troppo brusche, delle frenate troppo brusche e stiamo anche testando dei modelli sul Digital Twin per capire come un veicolo sulla base di questi dati sta performando rispetto a come questo veicolo avrebbe dovuto idealmente performare, però questo è in fase di test, fa anche parte della roadmap per il futuro. Dal 2021 ad oggi ovviamente è cambiato tantissimo, siamo riusciti ad andare live ufficialmente, questo è successo a dicembre 2022, prima erano solo dei progetti pilota o dei private beta, ovviamente il covid ha avuto un impatto fortissimo sul nostro servizio che è mobilità condivisa, quindi siamo dovuti stare in attesa per un paio d'anni, però nel frattempo abbiamo comunque continuato a sviluppare la tecnologia, l'app, abbiamo depositato quattro brevetti, quindi ci siamo sviluppati molto. E come fate su iOS a prendere questi dati quando il cellulare è in stand by? Allora diciamo che quando comunque sei in quella finestra per la quale stai guidando un veicolo noleggiato sul volvero, abbiamo comunque l'accesso ai dati. Però diciamo in background non credo si possa fare questa cosa su iPhone, come costante controllo dei dati dell'accelerometro. Allora, adesso qui entriamo sul tecnico, io mi occupo di un'altra cosa, presumo di sì perché funziona. No, perché se potrebbe, chiedo un'idea, potreste magari sviluppare un accessorio da mettere alla presa o BD della macchina e avete tutto. Allora, ce ne sono già tante start-up che lo fanno, anche alcuni dei nostri competitor stanno provando a farlo internamente. Diciamo che in prospettiva futura si può pensare di integrarlo, ad oggi vogliamo comunque tenere la soluzione come software only, con ovviamente alcuni limiti ma anche con molti vantaggi che sono la facile scalabilità a livello sia nazionale che anche internazionale. Secondo me l'idea è molto valida, la challenge che secondo me avete già superato è quella relativa alla copertura assicurativa, che diciamo, se dite di aver smarcato quel punto nella to-do list, siete già avanti, il resto è sviluppo software. Vediamo se ci sono domande, sì ce ne sono due, partiamo, bastiamo il microfono. Sì, grazie per la presentazione. Una domanda era sulla traction perché è uno dei criteri per la selezione e non ho sentito nulla, quindi volevo sapere che numeri avevate fatto sino ad ora. Sì, abbiamo più o meno un'ottantina di veicoli a disposizione, principalmente in area Veneto perché è dove abbiamo lanciato e dove ci stiamo focalizzando per comunque far crescere il nostro modello. A livello di traction anche in termini di download, considero che da quando abbiamo lanciato tra il 2000, fine 2022, inizio 2023, abbiamo fatto 4500 download, che sono comunque tanti considerando che non abbiamo speso poi più di tanto in budget marketing, dobbiamo un po' migliorare nella fase di conversione tra poi download e chi paga per l'utilizzo dell'app e infatti adesso ci stiamo focalizzando molto nel miglioramento della user experience sull'ultima parte del funnel. Grazie. E quant'è la conversione, scusami? Questo è un dato riservato che possiamo discutere in privato. Ciao, sono Giacomo di Amazon, complimenti per l'idea della realtà, sono curioso sui next step, anche cercando di capire come utilizzerete il fondo che cercate da 1.400.000, quanto è per effettivamente scalare il modello o quanto altrimenti è sul creare nuove linee di business, un modello magari SAS, sul capire come può essere utilizzato da tantissimi playlist come assicuratori, brand, quello che state creando sul controllo del guidatore? Questo 1.400.000 che stiamo cercando ci dovrebbe intanto dare una runway di ulteriori un anno e mezzo, portandoci a due anni a partire da quando poi chiuderemo il round, che si spera prima della fine dell'anno. Verrà investito un terzo in marketing perché ovviamente per far scalare un business come il nostro fa tanto anche il marketing, quindi hai il costo di acquisto del cliente KX, più soldi metti, più clienti attiri. Quindi ovviamente una parte consistente in marketing, soprattutto per comunque espanderci nel nord, centro nord Italia e poi anche per comunque fare dell'attività all'estero che come ho detto ci stanno già vedendo impegnati, abbiamo già fatto un progetto pilota l'anno scorso a Bruxelles, partiremo adesso con un altro progetto a Malta e tra poco dovremo anche farne un altro in un altro paese. Una parte del round verrà ovviamente investito in ricerca e sviluppo e poi una piccola parte anche per testare nuovi modelli come descrivevi tu, circa il 10-15% del round. Va bene, grazie mille. C'è un'altra domanda? Una bella mano alzata là in fondo? Sì, volevo chiedere, ho visto che avete 135 mila euro di fatturato, non so se mi sono perso qualcosa, se puoi dirci di più su come li avete fatti. Sì, abbiamo effettivamente chiuso l'anno scorso con più o meno 135 mila euro di fatturato, una parte è derivante da commissioni di intermediazione, quindi tu condividi la tua auto con Pippo che ti deve dare 100 euro per due giorni, ne prendi un po' meno di 100 perché noi ci teniamo la nostra percentuale, quindi quello fa una parte del fatturato che hai visto, un'altra parte è derivante anche dai progetti pilota che come ho detto abbiamo fatto l'anno scorso, quindi anche sui progetti pilota di solito carichiamo alle corporete o alle municipalità o a fondi europei che magari ci danno dei soldi per fare dei test come abbiamo fatto. Quindi più o meno continueremo con questa linea. Perfetto. Bene, grazie mille. Bene, grazie. Grazie a te. Divertitevi e ci vediamo in giro. Ciao. Ok, la prossima start up in gara è in...